Buongiorno, buongiorno dalla redazione Buongiorno, buona epifania in questo sabato 6 gennaio 2018 è arrivato il giorno della Befana che chiude come sempre il ciclo delle feste natalizie noi ci siamo però per il nostro consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa e dunque sfoglieremo i quotidiani locali e rivedremo anche alcuni dei servizi del TG6 vedremo anche le prime pagine delle principali testate nazionali subito ora con le aperture, le prime pagine dei quotidiani locali partiamo dalle quattro edizioni del centro qui siamo sull'edizione di Pescara apertura la seguente influenza, assalto al pronto soccorso boom di accessi in 20 giorni il primario venite solo per casi gravi sotto la testata vediamo anche l'immagine di Amadeus questa sera all'estrazione l'Abruzzo sogna con 220 mila biglietti della Lotteria Italia e poi scatta il caro assicurazioni polizze stangata su 35 mila abruzzesi ecco chi dovrà pagare e poi ancora in basso vediamo a lato il lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo addio a Marina Ripa di Meana aveva 76 anni poi il ministro contro il PD Calenda abolire il canone Rai una presa in giro a centro pagina la foto notizia che voglia di shopping scoppia la festa per i salidi musica e spettacoli aprono la stagione degli sconti a Pescara di spalla poi per la cronaca dai domiciliari spaccia droga per la Movida in via Regina Margherita smoghi residenti diffidano il comune poi la denuncia del fratello morì a Rigopiano ma per l'Inail era inesistente in basso altri richiami lavoro in Abruzzo apprendistato 2 milioni di euro destinati a giovani imprese poi lanciata la class action A24 e A25 dilaga la protesta contro l'aumento del pedaggio e poi in basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna dedicato al grande Adriano Celentano che compie 80 anni auguri a Celentano il nostro arci italiano e poi l'edizione teramana del centro con questa apertura scatta l'accusa di omicidio stradale Roseto indagato l'automobilista di 20 anni che ha investito il 18enne la fotonotizia saldi l'avvio è buono ma non c'è corsa agli acquisti la prima giornata degli sconti a Teramo è scivolata dunque così e poi i richiami che vediamo di spalla è accusato di bigamia mogli a Teramo e in Asia rischia il processo e poi il giallo della pittrice i dati telefonici smentiscono marito e figlio e poi sempre a Giulianova ma in via Nazario Sauro torna il cantiere serrata dei negozianti ora l'edizione di Chieti del centro l'apertura in un anno 8.000 multe non pagate a Chieti un milione e mezzo non riscosso e il comune batte cassa la fotonotizia sempre a Chieti oggi il presepe con la Madonna nigeriana e sua figlia la rappresentazione di Chieti sotto il segno della solidarietà a Vasto leggiamo di spalla ladri assaltano due negozi del centro a Lanciano pronta la scuola che resiste al terremoto e ancora a Vasto politiche al via il toto candidati al Parlamento l'edizione aquilana del centro smontata la maxigru pericolante l'Aquila ma per le 30 famiglie sfollate un'altra notte in albergo foto notizie anche in questo caso presepe presepe vivente storico di rivisondoli in migliaia incantati dal fascino della natività e poi ancora di spalla l'Aquila folla alla fiera tra i cantieri in centro storico la fiera dell'Epifania a Vezzano morto in casa ora è scontro sulle perizie e poi in Valle Roveto a Capistrello truffa alle poste da 80.000 euro coppia arrestata vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo ecco l'apertura dedicata alla cronaca coltellate e droga e la nuova mala pescara tre arresti della polizia per il tentato omicidio di due macedoni sono tutti esponenti di una famiglia di serbi un cui membro è finito dentro ieri per narcotraffico poi alcuni richiami sotto la testata Chieti il caso Madonna Nera e Bambina Gesù e Bufera sul presepe vivente teatro stagione al via Chieti con l'anatra all'arancia e poi per il calcio in particolare calcio mercato e in particolare per quanto riguarda il Pescara Pescara stringe per Gravion ed Embalo spunta Xianemers in serie C Foggia del Teramo verso l'addio è richiesto da Lentini patrono Campitelli in contrarrepetto e per adesso rinuncia al Terzino e poi ancora di spalla i nostri dati alla portata dei pirati della rete il libro di Antonio Tetti mette in guardia dai rischi del web e poi la fotonotizia al centro ecco qui Bancarelle la festa dell'Aquila e per la Befana manifestazioni in tutto l'Abruzzo torniamo alla cronaca sempre a Pescara Jennifer l'ex fidanzato non è pazzo e poi in taglio medio class action contro gli aumenti dilaga la protesta anti pedaggi il caro autostrade mobilita sindaci e pendolari martedì sit-in a Roma e poi leggiamo Teramo bigamia mogli in Italia in Asia giudizio un marocchino e per la politica elezioni lite a Teramo sul nome di Pannella e sempre in basso l'anno che verrà mare, neve, borghi il turismo riparte e ora andiamo a vedere la prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo questa è l'apertura scopre che il marito era già sposato una moglie in Italia l'altra a Singapore dice di essere divorziato ma rischia il processo per bigamia poi la fotonotizia saldi col botto pienone al centro commerciale a Teramo deserto in centro storico poi di spalla rosetto degli abruzzi domani funerali del 18enne investito dall'amico droga e armi il carabiniere denuncia nove colleghi per la politica una serie di titoli in basso Mastro Mauro il sindaco di Giulianova corre per liberi e uguali ecco la lista dei candidati Teramani in Parlamento e poi Teramo al voto PD Cavallari e Dalberto restano fuori sempre per la politica Bonino e Dinanna in Abruzzo si consuma la spaccatura dei radicali lasciamo i quotidiani locali andiamo a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali e partiamo dalla Repubblica con questa apertura Renzi vado avanti sul Canonerai sfida con Calenda il segretario Dem siamo stati i primi a tagliarlo parla il ministro il PD esca dal Truman Show i radicali valutano l'opzione di correre da soli poi la fotonotizia niente Europa Macron chiude la porta alla Turchia l'ira di Erdogan siamo stanchi di implorare in basso poi il lutto la scomparsa appunto di Marina Ripa di Meana aveva 76 anni Marina fino alla fine artista dell'eccesso raddio invidio così ho scelto di morire poi la sentenza spese folli della Lega per la famiglia Bossi il senatore sapeva e dava il via libera l'università paradosso Anvur l'agenzia che è valuta agli atenei italiani ma lo fa al contrario il Corriere della Sera ecco l'apertura salgono redditi e consumi famiglie cresce il potere d'acquisto gentiloni sono dati incoraggianti dossier Istat la pressione del fisco è diminuita del 40% aumenta l'inflazione raggiunta quota 1,2% e poi andiamo a centro pagina maltempo e vacanze ancora nevicate da record corsa a lasciare le Alpi poi la fotonotizia la guerriera mondana e i suoi primi 76 anni addio a Marina Ripa di Meana lottava contro il cancro e poi in basso leggiamo basterà il pensiero a guidare un robot cuffie sensori per muovere le macchine un aiuto per i malati di Sla test a Genova e poi un paio di richiami in basso la rivincita di Spelacchio l'albero a Roma che ha un grande successo sui social con la corsa al foto e ai selfie e poi pari con la Fiorentina per lo sport in uno dei due anticipi di ieri della Serie all'Inter beffata al novantesimo ora andiamo a vedere la prima pagina del tempo ecco qui Casino Lazio dossier gioco provincia per provincia paese per paese tutti i dati ecco quanto spegniamo per slot bingo scommesse e video poker e poi di lato a Calarenzia dopo 40 anni killer impuniti l'anniversario della strage dei Missini e poi a centro pagina A24 tariffe d'alta quota pure a livello del mare la protesta calcolati come montani anche i chilometri da fare dentro Roma passiamo ora al messaggero ecco qui l'apertura polizia e militari così gli aumenti stretta per il rinnovo del contratto incremento medio fino a 105 euro al mese da febbraio polemica Renzi calenda sull'abolizione del canone Rai Istat crescono i redditi delle famiglie per lo sport sotto la testata sul fronte Lazio la Lazio a Ferrara per una vittoria da Champions De Vrij no al Milan e poi sul fronte Roma passa la linea Monci con l'Atalanta Nainggolan fuori e poi la fotonotizia anche in questo caso dedicata alla scomparsa di Marina Ripa di Meana ecco qui addio Marina Ripa di Meana le trasgressioni di una vita in taglio medio Bossi attaccava Roma ladrona mentre intascava soldi per sé la motivazione della condanna dell'ex leader leghista per fondi sottratti e poi ancora election day anche per la regione Lazio processo raggi dopo il voto 21 giugno scontro sulla costituzione di parte civile poi in basso sanità in tilt allarme influenza picco in arrivo già 4 morti andiamo ora a vedere la prima pagina di Libero ecco l'apertura Ampi a partigiani immaginari dichiara guerra alla Befana attacchi all'estrema destra che oggi porterà doni e bambini negli ospedali iniziativa razzista che discrimina in base alla religione ma l'epifania è festa cristiana peraltro cara al duce e gli antifascisti sprofondano nel ridicolo e poi in taglio medio il comandante dei carabinieri infuriato questi signori ladri tornano liberi a Padova e riprenderanno a rubare in basso legge elettorale vi diciamo come funziona sondaggio sui preferiti nel centro-destra primo Berlusconi poi Salvini e Meloni sistema incomprensibile lo decifriamo e spieghiamo perché Silvio e soci sperano e poi in basso metodo Berlusconi contro Donald un libro pieno di balle per silurare Trump la prima pagina del fatto quotidiano ecco l'apertura 5 stelle la carica dei 15.000 di My & Company al lavoro per scegliere i migliori e tenere fuori riciclati e inquisiti movimento sommerso dalle richieste difficile controllarle tutte poi lo mise in bolletta Renzi fa godere Mediaset Rai senza canone e poi in taglio medio a Torino soffiate ai clan patteggia ma rimane nei carabinieri maresciallo condannato dovrà anche risarcire l'arma e poi anche sulla prima pagina del fatto quotidiano si parla degli 80 anni di Adriano Cenentano la figlia racconta buona vita papà caro papà e poi ancora andiamo avanti con la prima pagina del manifesto ecco qui canone che abbaia abolire la tassa Rai Renzi cambia verso al PD ma anche sulla tv pubblica e scontro con le opposizioni ma anche Calenda lo attacca una presa in giro lo abbiamo messo in bolletta il leader torna protagonista per un giorno ma alla fine frena e ora la prima pagina del secolo XIX sondaggi cresce il vantaggio del centrodestra la simulazione al senato mancano 20 seggi alla maggioranza assoluta abolizione e canone Rai scontro PD Calenda poi foto dal satellite 100 casi scoperti a 20 miglia così l'agenzia spaziale scova gli abusi edilizi la prima pagina della verità ecco l'apertura un hacker scopre la falla per la verità come cancellare tutte le multe di taglia il sistema informatico che gestisce le sanzioni degli autovelox è lo stesso in ogni comune ed è violabile con estrema facilità anche da persone non espertissime a correggio è già successo distrutte le infrazioni e carpiti i dati personali dei cittadini poi la fotonotizia Washington Post Woody Allen ha la fissa delle minorennie poi in taglio medio stangata sui sacchetti anche in farmacia circolare di Federpharma impone di addebitare le sportine ai clienti dal primo gennaio i consumatori denunciano le fanno pagare fino a 60 centesimi intanto la questione finisce all'Europarlamento andiamo ora con l'avvenire l'apertura famiglia da aiutare in campo le donne voci autorevoli dei partiti dopo l'appello del forum dalle sei principali forze politiche ribadita la necessità di una scossa verso il voto fa discutere la proposta PD di abolire il canone RAI e poi il mattino vediamo l'apertura cure anticancro sud indietro Iavarone mancano le banche dati chi fugge al nord fa solo l'acchemio la polemica sulle terapie di serie B per i meridionali lo scienziato beneventano della Colambia contrattacca e poi andiamo a chiudere con il sole 24 ore ecco l'apertura sud via allo sconto pieno per le assunzioni stabili salgono a 13 le aree di crisi industriale ammesse alla cassa integrazione lunga sbloccato il decreto che proroga per il 2018 la decontribuzione al 100% per giovani e disoccupati e poi in basso ecco qui Wall Street record borsa in rally Milano più 1,1% oltre il 4% da inizio anno Tokyo ai massimi dal 1992 il listino USA corre grazie ai dati del mercato del lavoro creati 2,1 milioni di posti nel 2017 chiudiamo qui con la rassegna delle prime pagine nazionali ora ripartiamo dal centro siamo a pagina 2 dunque ripartiamo dai quotidiani locali ecco qui polizze stangata per 35.000 abruzzesi medici e infermieri le categorie più colpite in abruzzo secondo facile punto it un'auto su 5 e priva di copertura e qui abbiamo anche il confronto con la suddivisione anche regione per regione percentuale automobilistiche che cambieranno classe di merito a seguito di sinistro con colpa la provincia che registra l'aumento maggiore 5,04% e quella di pescara e poi in basso un anno record per i grifoni 38 nominati a Castel di Sangro le uova si sono schiuse in 6 siti di nidificazione controllati dai carabinieri forestali pagina 3 è il giorno della lotteria Italia l'Abruzzo acquista 220.000 biglietti e quella volta che un aquilano dimenticò di ritirare il premio da un milione già spesi in scommesse 224 milioni di euro in appena 6 mesi in testa le slot machine e videolotterie un anno fa la nostra regione si consolò con 5 vincite minori questa sera si spera nel colpo grosso e poi in basso dopo il patto con Tabacci protesta abruzzese anti Bonino Pescara presentata la lista ma nasce il fronte del no Terramano e poi effetto epifania piste innevate tutto esaurito a Roccaraso è già record andiamo avanti pagina 12 la pagina Abruzzo protesta contro l'aumento delle tariffe A24 e A25 il caro pedaggio è illegale il neoparlamentare Verrecchia lancia una class action e mostra l'atto con cui il governo aveva inibito il salasso scendono in campo la provincia aquilana l'ACI regionale la CNA di Terramo e il consigliere Pietrucci Melilla annuncia il sitino a Roma durante il vertice del Rio D'Alfonso Zingaretti appello a 108 sindaci ieri in particolare a Terramo abbiamo ascoltato la voce delle associazioni di categoria anche loro insomma fortemente contrari a questo salasso dei pedaggi dell'autostrada A24 e A25 vediamo gli sforzi sovrumani compiuti dai sindaci della montagna Terramana e dall'amministrazione provinciale per rilanciare un'entroterra terremotato e spopolato rischiano ora di essere vanificati a causa degli aumenti autostradali sull'A24 e A25 che sfiorano il 13% in più un aggravio che colpisce soprattutto gli sfollati che dalla costa viaggiano ogni giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro ma che in fondo non risparmia nessuno il fronte della contestazione monta di giorno in giorno e vede compattarsi primi cittadini sindacati associazioni di categoria ma soprattutto dal versante Terramano che si alzano le voci più forti quelle degli artigiani e delle piccole e medie imprese casa artigiani è stata tra le prime associazioni a muoversi innanzitutto perché insomma riteniamo che la nostra provincia è stata già colpita da eventi veramente brutti nel corso del 2017 e naturalmente ancora oggi abbiamo grossi problemi per ripartire insomma legata a una serie di anche situazioni che vengono da lontano e affliggere i cittadini le imprese con questo nuovo aggravio un rincaro del 14% è sicuramente insomma una cosa inaudita abbiamo chiesto subito al presidente della regione di attivarsi e di aprire anche un tavolo regionale aperto a tutti alle associazioni dei consumatori alle associazioni dei datoriali alle associazioni sindacali perché insomma c'è un fermento ma cosa temete? ma in particolare temiamo che per le nostre imprese ci sia un aggravio finale sui costi di beni e servizi c'è un imprenditore che si fa due conti quando sa che deve pagare per la propria produzione per la propria rete commerciale un 14% in più di autostrada deve aumentare il costo finale del prodotto del servizio e quindi si rischia naturalmente anche di perdere competitività sui mercati che sappiamo già non sono facili intanto il governatore D'Alfonso promette di trattare la vicenda degli aumenti autostradali direttamente col ministro del Rio si batterà affinché l'aggravio massimo non superi il 2% invece con il rincaro attualmente previsto sulla strada dei parchi sarebbe come far pagare un caffè al bar 20 euro sempre sulla pagina Abruzzo apprendistato fondi per 2 milioni l'assessore Scrocco sprona l'impresa a non perdere l'occasione poi di lato Biotestamento Movimento 5 Stelle subito il registro avanti con le pagine di Pescara boom di afflussi all'ospedale Albani al pronto soccorso solo casi gravi 4.000 accessi in 17 giorni specie per l'influenza il primario rivolgetevi ai medici di base per le visite di routine poi leggiamo ancora in basso ambulanze bloccate tra il 2 e il 3 gennaio abbiamo avuto 590 ingressi e per due ore abbiamo bloccato i mezzi per dirottare i pazienti appenne e popoli il 26 dicembre maxi turno all'alba di Santo Stefano ho dovuto richiamare 5 medici e anticipare l'orario di lavoro dalle 8 alle 6 del mattino avanti ancora per la cronaca spaccio a Pescara vecchia ai domiciliari vende la droga per la Movida un 21enne arrestato dalla squadra mobile nei guai anche la complice che riforniva i clienti in via delle caserme dalla casa di via Aldomoro l'uomo avrebbe tentato di avviare anche lo sfruttamento della prostituzione la 39enne è accusata dalla procura di 6 episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e poi le intercettazioni lo ha denunciato una prostituta voleva che preparassi le ragazze ecco qui in basso padre e due figli in cella per tentato omicidio rissa e a coltellamenti in via Rigopiano ricercato un quarto aggressore la lite per la musica alta proseguiamo sempre la cronaca baby gang arrestato un 15enne un ragazzino di Montesivano avrebbe partecipato all'aggressione di un gruppo di coetanei in centro e a Montesivano presi i ladri incubo delle commesse coppia derubava le dipendenti di negozi e supermercati emergenza inquinamento e torniamo a Pescara smog in Viale Regina Margherita i residenti diffidano il comune i cittadini danno 30 giorni di tempo per ripristinare la zona traffico limitato il sabato e nelle festività l'amministrazione non ha eseguito la sentenza del TAR intanto qui l'aria è diventata irrespirabile e poi in taglio medio la Befana Seville AIL all'ospedale giocattoli e sorrisi per i piccoli pazienti nel reparto di oncoematologia pediatrica siamo sempre a Pescara via ai lavori per 416 alloggi sono attesi da 50 anni da Alfonso Sigla la convenzione che prevede 5 milioni dalla regione per gli appalti si parte a marzo con Fontanelle poi gli edifici di via Rigopiano e Salara Vecchia poi in basso le periferie ancora nel degrado pettinari dei 5 stelle decine di palazzi popolari restano in condizioni drammatiche siamo alla stagione degli sconti pagina 20 balli per le strade negozi strapieni e la festa dei saldi partito nel modo partito nel migliore dei modi in città il periodo degli affari sarà possibile approfittare delle offerte fino al 3 marzo qui una serie di foto che ritragano vetrine gente a passeggio mentre fa shopping è il momento degli acquisti tutto in un clima di festa e siamo alla pagina di Monte Silvano ecco l'isola ecologica per smaltire tutti i rifiuti inaugurato il primo contenitore multiscomparto per la raccolta differenziata basterà inserire la tessera sanitaria potrà essere utilizzato anche dai turisti tutto questo in via Aldomoro all'incrocio con via Portogallo allora vediamo il servizio relativo alla inaugurazione di questa isola ecologica Nicola della Corina Formula Ambiente che cosa significa avere un'isola ecologica in una zona molto turistica noi qui stiamo partendo con il sistema di domiciliare porta a porta quindi abbiamo tolto i bidoni dalla strada questa isola serve soprattutto nel periodo turistico per permettere al cittadino o al turista che viene in una casa per poco tempo di conferire il proprio rifiuto senza aver bisogno di rispettare il calendario e gli orari perché sappiamo che la raccolta domiciliare ha bisogno del rispetto dei giorni di conferimento e può capitare che in periodi turistici ci siano invece esigenze diverse questo contribuisce sensibilmente a migliorare il livello di qualità del servizio di igiene urbana a raggiungere gli obiettivi previsti dall'amministrazione comunale noi nella zona di Montsilvano Colle siamo circa all'80% di raccolta differenziata e su base territoriale questo nuovo tipo di raccolta ci ha permesso nel 2017 di passare dal 21% al 30% di raccolta differenziata stiamo cercando di partire con grandi difficoltà come avviene purtroppo dovunque si passa nella raccolta porta a porta questo container che è un'isola ecologica praticamente viene donato alla zona per consentire di potersi disfare quei piccoli rifiuti che magari non si può aspettare per buttarli potranno conferirvi tutti perché c'è comunque c'è una telecamera e bisogna accedervi con la tessera sanitaria però ecco per consentire soprattutto ai turisti se vengono e devono stare pochi giorni non possono aspettare di disfarsi di tutti i rifiuti possono comodamente utilizzarla per riporre i rifiuti prima di andare via pagina 22 1.227.000 euro per l'istituto Spaventa sopra il luogo della provincia nella scuola angolana che riceverà i finanziamenti per l'adeguamento sismico insieme all'ITG Marconi di Penne 611.000 euro a Francavilla villa data alle fiamme il ris a caccia di DNA e di impronte digitali sequestrata la casa danni per 300.000 euro il proprietario disperato pronto a farmi giustizia da solo e poi a Penne Gabriele morto sul lavoro ma per l'INAIL non esiste lo sfogo di Francesco D'Angelo fratello del cameriere morto a Rigopiano i lavori per la bonifica dell'area non si sono fermati neppure durante le festività e poi ancora la pagina di Chieti ladri nel centro storico a Vasto sfondavano le vetrine svaliggiavano due negozi notte di furti con spaccata in un fruttivendolo in un bar per celiaci la rabbia dei commercianti non ci sentiamo al sicuro tutto questo appunto a Vasto e poi sempre a Vasto dimesso dall'ospedale il pugile urbano è riuscito l'intervento alla gola dopo l'accoltellamento presto l'atleta sarà ascoltato dai carabinieri e in basso il presepe vivente di chi cade si rialza oggi a Chieti la rappresentazione della natività con la madonna nigeriana e la sua bambina la pagina dell'Aquila capistrello coppia in trappola truffa da 80 mila euro arrestati alle poste un 42enne e una badante bloccati nell'ufficio svuotano il conto ricorrendo ad assegni taroccati e a false identità in taglio medio smontata la gru inclinata che minacciava le case ripristinata la sicurezza per famiglie sfollate nel centro storico aquilano e poi in basso ad Avezzano morto in casa e scontro sulle perizie tra accusa e difesa la pagina teramana con la tragedia che si è consumata due sere fa a Santa Lucia di Roseto scatta l'accusa di omicidio stradale alla guida dell'auto c'era un ventenne vicino di casa della vittima domani i funerali del 18enne investito e poi i santoleri smentiti dai cellulari nuovo indizio dalle celle telefoniche del figlio e dell'ex marito della pittrice scomparsa Renata Rapposelli noi ci fermiamo finisce qui la prima parte di questa edizione dell'Epifania di mattino 6 ora spazio alle previsioni del tempo alla pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte di nuovo buongiorno e di nuovo buona epifania in questo sabato 6 gennaio 2018 riprendiamo con la seconda parte di mattino 6 alle mie spalle vedete già il messaggero Abruzzo pagina 38 ecco qui l'anno che verrà è l'argomento affrontato il turismo neve e mare l'Abruzzo scommette sul riscatto dopo il gennaio nero i buoni dati del trimestre estivo portano ottimismo lolli piano strategico e servizi le chiavi per aumentare le presenze e poi ancora le luci e le ombre del settore costa dei trabocchi modello di successo ma senza adeguata residenzialità Roccaraso è un'eccellenza ma Caso Granzasso e Carotostrade penalizzano la stagione invernale poi l'opinione di Stefano Ardito le risorse ambientali per un boom penalizzate dall'assenza di un sistema wellness borghi escursionismo enogastronomia un paese di bengodi che non cresce come potrebbe andiamo alla pagina di Pescara con la cronaca coltellate arrestati padre e due figli tre in manette per la lite finita nel sangue in via Rigopiano coinvolto un terzo ragazzo che ha fatto perdere le sue tracce sono serbi e devono rispondere di dubbio tentato omicidio la musica alta è il motivo dello scontro ma per la polizia c'è altro due delle vittime due aggressori hanno precedenti con la giustizia nella loggio popolare erano tutti abusivi e poi ancora in basso i coltelli utilizzati non sono ancora stati recuperati prognosi riservata per i feriti ricoverati al santo spirito poi estorsioni e droga in mano al rampollo la squadra mobile svela un giro criminale gestito da Irfan 21enne della famiglia Nezziri che riforniva i pusher della movida pescarese allora vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6 diciamo che non è proprio una scoperta perché alcuni dei componenti della famiglia Nezziri non tutti erano già stati attenzionati dai nostri uffici tant'è che erano stati già arrestati in precedenza quindi non è proprio una novità ecco una vera e propria famiglia criminale quella Nezziri nel giro di 24 ore protagonista di due operazioni di polizia che solo il caso ha voluto si collegassero tra loro partiamo da ieri pomeriggio quando in via Rigopiano scoppia l'ennesima lite tra condomini si scoprirà poi abusivi delle palazzine Ater in zona ospedale il capofamiglia Nezziri Mohamed 43 anni di origini slave litiga violentemente con un 32enne macedone con sua nipote di 22 anni dalle parole pesanti si passa alle offese e infine alle coltellate quando arrivano a supporto del padre anche tre figli due maggiorenni uno dei quali fermato dalla squadra volante in flagranza di reato l'altro ancora irreperibile ed uno minorenne di 16 anni per tutti l'ipotesi di reato è tentato omicidio perché le vittime anche loro con precedenti di polizia nel frattempo sono finiti in ospedale operati d'urgenza per le ferite d'arma da taglio e tuttora in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita nel frattempo mentre la polizia metteva a posto nel corso della notte tutte le tessere di questo puzzle l'indagine si intrecciata con un altro componente della famiglia Nezziri un altro dei figli di Mohamed Irfan 27 anni nel frattempo agli arresti domiciliari in via Aldomoro a San Donato per una rapina compiuta alla biper di Francavilla nel marzo 2017 questa indagine parte però dal giro di prostituzione della stazione centrale scoperto ad aprile 2017 dalla polizia di Pescara la prostituta italiana al centro della vicenda ha denunciato un'aggressione compiuta da Irfan nella sua abitazione a febbraio 2017 apparentemente senza motivo invece si è scoperto poi grazie alle indagini alla base c'era un giro di prostituzione e di spaccio di droga Irfan Nezziri assieme alla complice Daniela Nonnati 39 anni aveva messo in piedi un giro di spaccio di droga nella movida pescarese di via delle caserme e delle torri camuzzi servendosi di corrieri tutti minorenni non solo lo stesso Irfan voleva inserirsi anche nel racket della prostituzione e sfruttando il debito per l'acquisto di droga del compagno della prostituta pescarese di origini albanesi voleva a tutti i costi che la donna insegnasse il mestiere ad una sua protetta portandola sulla strada sia per Irfan Nezziri che per Daniela Nonnati sono stati emessi i provvedimenti di custodia cautelare da parte della procura pescarese con l'accusa di spaccio di droga e lesioni l'indagine però è destinata a completarsi di altri tasselli nel giro di poco tempo sempre a pescara Jennifer l'ex fidanzato non è folle la perizia inchioda Davide Troilo il consulente del GUP Massimo di Gian Antonio esclude per l'imputato di omicidio la scappatoia dell'infermità mentale non sussistono aspetti di malattia mentale a gennaio il rito abbreviato lui rischia fino a 30 anni e poi lotta al degrado risanamento edilizio e nuovi alloggi cura da 5 milioni per Fontanelle D'Alfonso annuncia gli interventi della regione rischio crolli rischio crolli a Rancitelli l'allarme del movimento 5 Stelle allora ieri vediamo questo botta e risposta da un lato l'annuncio del presidente D'Alfonso a Fontanelle e poi la denuncia a Rancitelli del consigliere regionale dei 5 Stelle Pettinari Assunzi l'impegno nel redigere computometrico e produrre copertura finanziaria entro il tempo congruo che l'ordinamento mi consentiva a distanza di 12 mesi abbiamo reperito le risorse determinato la progettazione esecutiva quella che ci consente di individuare il contraente il contraente che vingerà i lavori vincerà i lavori sulla base di una regola prevalente che è quella del massimo ribasso questo è lo spiegamento tecnico della vicenda adesso sono molto soddisfatto di poter dire che in queste case dove vivono famiglie titolari di diritti e di dignità finalmente si attiverà un cantiere manutentivo per il risanamento igienico-sanitario un risanamento igienico-sanitario imposto dalla condizione assurda dei vani abitativi e degli spazi anche igienici a causa di una cattiva realizzazione illo-tempore tra balconi e fioriere oggi siamo nel quartiere Rancitelli di Pescara consigliere Pettinari lei lancia l'ennesimo allarme sullo stato di alcune abitazioni non solo di questo quartiere di Pescara ma anche di altre zone della città certo sono rimasti fuori da ogni tipo di intervento distanziamento di risorse i quartieri Rancitelli Sandonato Zanni Borgo Marino e tutta la provincia di Pescara e tante zone periferiche della regione abruzzo case popolari fatiscendi che possono crollare qui siamo sotto un palazzo che potrebbe crollare da un momento all'altro l'hanno certificato anche tecnici autorevolissimi e collegato ad altre case ad un treno di case potrebbe portarsi dietro tutto mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini e dei residenti ebbene io vedo che il Presidente D'Alfonso va a fare passerelle elettorali questa mattina a Fontanelle solo perché siamo vicini alle elezioni evidentemente ma non si accorge che i problemi sono dappertutto in ogni luogo qui non è venuto mai deve venire qui deve andare in altri posti soprattutto deve stanziare risorse invece mi si bocciano costantemente i miei emendamenti al bilancio che chiedono più risorse ecco qui non ci sono cittadini di serie B sempre sul messaggero la Befana sul Peschereccio al Marina attesa per la Vecchina le 11 arriva dal mare al porto turistico poi a Pediatria in ospedale dalle 17 e a Piazza Muzzi con l'Avis si ferma in più piazza quella del Movimento 5 Stelle all'Oasi quella del Vigile calze pompieropoli e giochi all'Arca e al centro Abruzzo e poi ancora sono tanti gli appuntamenti nella giornata dell'Epifania ieri l'anticipazione a Montesilvano avanti ancora e siamo a l'Aquila Fiera in centro con 25 mila visitatori buoni affari per tutti i 330 operatori arrivati in città nella zona del Torione non sono mancati gli abusivi nell'area est vicino al cimitero segnalati parcheggiatori fuori legge tra le bancarelle t-shirt inneggianti al fascismo a passeggio anche il sindaco e gli assessori con rispettive famiglie al seguito è stato un successo vediamo anche noi allora come è andata la Fiera dell'Epifania è proprio il caso di dirlo buona la prima della Fiera dell'Epifania targata Pierluigi Biondi prima volta della nuova amministrazione alle prese con la settantesima edizione della Fiera è tutto affilato liscio compresa la viabilità gente soddisfatta un tripudio di colori e sapori la settantesima edizione della Fiera oltre 300 bancarelle nel centro storico e controlli serrati da parte di Municipale Polizia Provinciale e Forze dell'Ordine che hanno sbarrato alle vetture gli accessi al centro storico la Fiera come sempre ha visto molte presenze complice la bella giornata sin dalle prime ore della mattinata le piadine sempre gettonatissime gli stand delle associazioni sportive l'Aquila Calcio compresa nonostante il freddo gli aquilani sin dalle prime ore hanno visitato gli stand e hanno pure comprato comprare sai che mi sono già comprato un piatto com'è la Fiera dell'Epifania? erano tanti anni non ci venivo più oggi questa bella giornata sono appena arrivata allora ancora non lo so come è bella lei viene sempre? sì sì tutti gli anni un coltello poi un coso per il ferro da stiro è un appuntamento bello questo non ci si rinuncia? mi piace tanto sì infatti ho preso un giorno di ferie una bella giornata poi insomma che altro dire? è più bella è bellissima bellissima un po' meno bancarelle rispetto agli altri anni la giornata è stupenda ed è sempre un piacere stare qui alla Fiera ok rientriamo proseguiamo con la nostra rassegna pagina 45 siamo sempre all'Aquila arte e buon cibo al Museo Nazionale frutti ortaggi e prodotti della tradizione come lo zafferano saranno presentati in incontri con agricoltori e contadini avvia anche tante iniziative per valorizzare il territorio e aprire il Munda come spazio cittadino ecco tutte le date poi gru inclinata un'altra notte fuori le operazioni complesse di smontaggio sono proseguite per tutta la giornata di ieri e siamo in Marsica caro autostrade verso una class action l'onorevole Verrecchia il governo può impedire gli aumenti e penso che ci siano tutti i presupposti per fare questa battaglia anche il parlamentare Melilla scende in campo sulla vicenda lunedì sit in al casello di Vicovaro Mandela martedì davanti al Ministero fronte regionale il consigliere PD Pietrucci annuncia presenterò una risoluzione in commissione e ora andiamo nelle pagine di Chieti Madonna nera e Gesù bimba e scontro sul presepe vivente fortunato della capanna di Betlemme per noi è una scelta altamente simbolica da Forza Nuova accuse al vescovo forte al sindaco di Primio che replica vergognoso frasi pesanti alla vigilia dell'evento rappresentato oggi pomeriggio alla Civitella e poi di spalla al via la stagione di prosa con l'anatra all'arancia oggi e domani il teatro marucino ospiterà Luca Barbareschi e Chiara Noschese poi in basso truffatore distratto tarocca il documento ma sbaglia data chiede maxi rimborso IRPE fa le poste con una carta di identità che risulta rilasciata il 5 agosto 2018 e poi ancora andiamo a Vasto furti con spaccata a bar e ortofrutta dopo i colpi alla marina non si fermano date di furti a Vasto nel merino dei ladri il 4 di spade alternativa al grano anche stavolta i danni superano di molto l'entità del bottino i commercianti esasperati e arrabbiati chiediamo sicurezza e la quinta volta che mi rubano dice Spadaccini qui non siamo più tranquilli aggiunge De Angelis e poi le pagine Teramane l'argomento principale in questo caso è quello dei saldi saldi avvio tra luci e ombre mancano i parcheggi gratis i negozianti la crisi della giunta si è ripercossa sulle assenze di iniziative i corsi tornano però ad affollarsi dopo la conclusione dei lunghi lavori Dario Sfoglia presidente di Federmoda la speranza di recuperare un brutto Natale poi moglie in Asia in Italia giudizio per Bigamia un marocchino residente Civitella non aveva informato la quarantenne vibratiana e poi in basso di Nanna contro Bonino nega il nome di Pannella questa leader si è sempre disinteressata del territorio anche durante la calamità e poi a Giulianova partiti i lavori di Globo 2 sull'Adriatica la ditta Mare Blu di Nicola di Nicola prevede la realizzazione di un grosso centro per la vendita di calzature e abbigliamento il privato ha ceduto al comune un'area di circa 5.000 metri per costruire a sue spese parcheggi per parcheggi e verde pubblico e poi via Sauro serrata dei commercianti aggredito Fabio Capriotti pugni al volto lunedì riprendono i lavori e la strada chiude per noi è la fine andiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo siamo a pagina 3 della città si consuma la spaccatura tra i radicali amnistia giustizia e libertà rinnega il percorso della Bonino di nanna da lei solo spot pubblicitari i radicali di Emma Bonino potranno presentarsi alle elezioni grazie alla donazione del simbolo di centro democratico di Bruno Tabacci il gruppo è presente in Parlamento ed eviterà la Bonino la difficile fase della raccolta delle firme per la presentazione delle liste avanti ancora siamo alla cronaca la tragedia sulla 150 domani i funerali del 18enne investito il 20enne amico è vicino di casa che lo ha travolto alla guida dell'Alfa Romeo e indagato per omicidio stradale negative in analisi di alcol e drug test sull'investitore la zona è ben illuminata ma non ci sono strisce pedonali inutile l'autopsia sulla vittima il giovane investitore indagato per omicidio stradale e poi ancora saldi inizio col botto al centro commerciale il centro storico spera nel mercato dell'epifania sempre più evidente la frattura con Teramo 2 e poi abbiamo già visto Teramana scopre che il marito era già sposato Marocchino rischia il processo per bigamia le aveva detto di essere separato ma spunta una consorte in Asia e poi ancora andiamo avanti con pagina 8 lavori a rilento alla scuola di San Benedetto dovevano terminare entro il 31 dicembre a rischio il ribasso per cucina e mensa la politica Cavallari e Dalberto in corsa fuori dal PD gli ex capigruppo sono entrambi intenzionati a correre da sindaco si incontrano ma non svelano i piani futuri e poi ancora le notizie dalla provincia in corsa al Parlamento per liberi e uguali Mastromauro ha dato la sua disponibilità nonostante i problemi col decreto salva sindaci oltre a Mastromauro inseriti anche la rossetana Ciancaione il terramano Alessiani e degli compagni di Castellalto attesa la decisione da Roma poi ancora a Tortoreto il carabiniere indagato denuncia a nove colleghi inchiesta su droga e armi il militare parla di indagine inquinata e si sente vittima di mala giustizia segnalati al Consiglio Superiore della Magistratura anche PM e giudici che hanno coordinato l'inchiesta proseguiamo e siamo a Giulianova ricatti osè agli anziani adescati sui social allarme tra i pensionati giuliesi finiti nella rete delle ragazze che spilano soldi dopo lo scambio di video hard se non paghi tramite una ricarica Paypal la ragazza minaccia di diffondere i video osè ai contatti amici e poi ancora a Roseto ancora il caso delle strisce blu pasticcio strisce blu respinte le scuse del sindaco per casa civica Roseto e Roseto al centro e Forza Italia non bastano va accertata la responsabilità dell'errore e poi sempre a Roseto ricorso al tar contro la tassa di soggiorno le associazioni turistiche pronte a bloccare il balzello a rischio centinaia di posti di lavoro nel mirino degli operatori turistici il voto in consiglio senza il necessario parere dei revisori dei conti per gli operatori la tassa di soggiorno rischia di incentivare il fenomeno degli affitti in nero andiamo ora allo sport ecco qui si parla chiaramente di Teramo il nuovo modulo cambia il mercato del Teramo ieri incontro al Bonolis tra Campitelli e Repetto il terzino non è una priorità meglio un centrocampista non c'è stata ancora un'offerta vera e propria su Foggia il centramenti che potrebbe finire alla Sicula Leonzio non c'è stata ancora un'offerta vera e propria ma l'interesse c'è per il momento nessuno della Rosa ha manifestato la volontà di lasciare il Teramo novità attese per lunedì e poi per il basket il coach Teramano Bianchi che parla girone d'andata positivo pronti per il derby di domenica e il bilancio della prima parte di stagione domani c'è Giulianova al Palas Capriano un excursus ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali quotidiani sportivi prima di andare a chiudere con le pagine dello sport di centro e messaggero ieri due anticipi Chievo-Udinese uno a uno Fiorentina-Inter uno a uno due anticipi di Serie A dunque la gazzetta titola così Icardi Re Moggio involuzione Inter la viola domina fa uno a uno epifania in campo a Firenze non basta la rete del bomber e poi sotto la testata il caso Nainggolan a Roma Ninja in castigo Nainggolan salta l'Atalanta di Francesco chi sbaglia paga e il tecnico della Roma aggiunge un errore inaccettabile dopo gli eccessi di capodanno del centrocampista belga e poi di spalla il Napoli punta sul ritorno del tridente la capolista col Verona l'inseguitrice a Cagliari la Juve gioca il suo jolly Bernardeschi e poi l'analisi di Sebastiano Vernazza al centro la Befana porta vecchi fantasmi e nuova freschezza in basso altri richiami sempre per il calcio di Serie A Milan con Cutrone Cezenga col Crotone e poi Mazzari al debutto Toro che feeling Cairo esalta il nuovo tecnico che ieri è stato presentato dopo l'esonero di Mihailovic ora la prima pagina del Corriere dello Sport ecco qui l'apertura Icardi è solo l'Inter non vince più Maurito gol ma domina la Fiorentina Pari Simeone Spalletti sì ci manca un centrale sotto la testata la capolista Napoli a Napoli un altro Caglie Hon azzurri contro il Verona alle 15 De Laurenti annuncia l'arrivo di una punta esterna e Donadoni Verdi e poi la Juve stasera a Cagliari ore 20.45 Allegri avverte Di Bala in una grande squadra non può fare il centro avanti ma lo conferma titolare e poi a tu per tu di Walter Veltroni Tommasi uniti per il nuovo non divisi per il vecchio Tommasi che ha avanzato la sua candidatura a presidente della Feder Calcio e ora tutto sport con il titolo d'apertura Di Bala facci capire Marotta Paolo è simbolo della Juve per noi è così ma dipende da lui stasera a Cagliari poi le vacanze sotto la testata Mazzarri svolta Toro ora fatti non parole 12.30 Torino contro il Bologna via il nuovo corso bisogna iniziare subito bene e poi di spalla trappola trappola Zenga per Gattuso in arrivo Maroni talento del Boca e poi in basso pari a Firenze Simeone gol al novantunesimo rabbia Spalletti l'Inter non vince più e poi altri richiami il caso Vanda troppi debiti via gli assette sportivi Lalite Conte Ammou soffri di demenza senile sci gigante in Slovenia riprovaci Federica e ora andiamo con con le pagine dello sport del centro e del messaggero rapidamente ecco qui sempre per il calcio mercato il Pescara piomba su Mariani del Lugano il presidente Sebastiani ha incontrato l'imprenditore Pescara Serenzetti patron del club svizzero per trattare la mezzala di origine italiana è quasi fatta per Embalo e poi questa particolare statistica tra primo e secondo tempo il Delfino ha perso sette posizioni i Biancazzuri occupano il decimo posto ma se le gare fossero terminate al 45esimo sarebbero terzi e poi per la serie C Foggia può partire la Sicula Leonzio vuole l'attaccante la punta del terreno piace ai siciliani ma il diavolo deve prima trovare un sostituto difficile l'arrivo di un terzino e poi ecco di Francesco da Sant'Egidio alla Juventus visite mediche per il talento abruzzese qui immortalato con il suo procuratore tornato di campi l'esterno offensivo protagonista del campionato primavera 2 con Lascoli a breve firmerà per il club di Agnelli e poi per il messaggero ecco qui l'intervista al direttore sportivo Marco Giannitti ex Celano al Pescara basta agganciare i playoff dice il DS del Frosinone Giannitti per quanto ha costruito in questi anni la città in debito con patron Sebastiani sul fronte mercato Embalo e Gravion in arrivo poi Xian Emmers nella pagina successiva per la il calcio a 5 a questa pone da leader Pescara c'è Ierai Jonas chiama raccolta i tifosi oggi al Pala Santa Filomena contro il Cisternino dobbiamo assolutamente vincere per la serie C Teramo Foggia verso Lentini chiesto da Diana la trattativa dovrebbe chiudersi entro breve termine noi finiamo qui la rassegna stampa di mattino 6 in questa edizione della Epifania non mancherà chiaramente l'appuntamento con il TG6 nelle edizioni principali delle ore 14 delle ore 19 delle ore 23 e poi domani ritorna la classica domenica di TV6 dalle 14.25 circa con diretta stadio e poi alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con il ritorno in campo del campionato di serie D grazie a Maurizio da qui in regia grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata e buona epifania grazie a tutti Grazie a tutti.